Ma che brutte cose cari amici, ma che brutte cose, cosa mi tocca da leggere, cosa mi tocca da leggere, ma che brutta notizia, io questa brutta notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video così voi la potete leggere nella sua interezza e nessuno potrà mai dire che Serafino Massoni è un mentitore, mentitore perché io non ho mai mentito, mai, 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 mai. Sul mio canale YouTube, sul mio canale YouTube ci sono più di 10.000 video, quasi 10 milioni di visualizzazioni, ho quasi 15.000 abbonati su YouTube, non ho mai mentito, mai, 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 mai in vita mia. E che cosa ho letto? Ho letto che Matteo Salvini il 10 dicembre, fra pochi giorni, si dovrà presentare in magistratura perché è stato rinviato giudizio per diffamazione della magistratura. Dio che brutte cose, cari amici, che brutte cose. E la notizia sta qua, è scritta. E cosa avrebbe detto di grave? Ha detto lo scorso 14 febbraio 2016 a Collegno, durante un comizio del Carroccio, ha esclamato difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, che è un cancro da estirpare. E' scritto proprio così, è scritto e virgolettato, è messo tra virgolette, hai capito? Dio che brutte cose, che brutte cose, cari amici, che brutte cose, che brutte cose. Parola di Serafino Massoni, Serafino Massoni, che è stato professore di filosofia e storia nei dicei classici e scientifici e poi ha scritto tutte queste belle cose. Io vorrei conoscere l'avvocato che difenderà Matteo Salvini, lo vorrei conoscere per sapere qual è la sua linea difensiva. Capito? Perché le sue testuali parole che qua sono messe tra virgolette sono difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana che è un cancro da estirpare. Voglio proprio vedere come farà il suo avvocato a difendere. Mi dispiace tanto, mi dispiace tanto, mi dispiace tanto perché non è una cosa bella, non è una cosa bella. Vedremo come andranno a finire le rose, cari amici, staremo a vedere. Io sono Serafino Massoni, sapete, sono sempre questo qua. Io non ho mai mentito, cari amici, non ho mai mentito. A tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni.